è una gioia immensa aver incontrato persone così sincere e sensibili per essere così premurosi per i problemi degli altri è necessario avere un cuore molto grande e sincera alla signora abbiamo deciso di regalare questo volume che racconta la storia e la spiritualità che è rappresentata dal gruppo ligno della addolorata che è in basilica di San Vittore ci sembrava che potesse essere un gesto molto semplice ma significativo perché diventa appunto in qualche maniera un po' un'icona di ciò che questa signora e questo popolo sta vivendo e però dice anche una speranza perché Gesù dopo la morte risorge e quindi io lo diamo a dire grazie